vado zima benvenuto nel 2020 intanto prima impegno non ufficiale ma primo match di questo nuovo anno un match di lusso contro un avversario forte come lo scrub Elkatov eravamo in formazione diciamo non tipo diciamo così 3-1 per noi miglior modo per iniziare il nuovo anno forse non c'è sì prima di tutto auguri di buon anno a tutti oggi si vita ha dato opportunità ai ragazzi che non hanno giocato tantissimo prima parte quindi all'inizio eravamo un po tesi ma è normale quando non giochi spesso è normale ma poi siamo cresciuti punto per punto e siamo andati sempre avanti quindi sono molto contento di partita di oggi anche complimenti alla squadra di Belkatov che è una una squadra molto molto forte senti come procede il lavoro in questi giorni di pausa da campionato da champions che state lavorando molto doppie sedute quasi quotidiane insomma bisogna mettere no benzina nel serbatoio si dice sì sì ma adesso è veramente dura abbiamo doppie sedute sì ogni giorno sempre pesi poi palla pomeriggio è veramente dura poi mancano batte e potche non è facile sì però va bene questo periodo serve tantissimo questo per prepararci fisicamente perché ci aspettano due o tre mesi molto molto impegnativi grazie sima grazie a voi